siamo al termine di ipag sorelle ramonda montecchio green warrior sassuolo vince sassuolo 3 a 2 questi ottavi di finale di coppa italia sentiamo le parole di giorgia mazzonna su questa partita una maratona allora non siamo partite proprio convintissime carichissime però sono contenta per come è continuata la partita e per come ci siamo ritrovati in campo per certi versi sono contenta per come ho fatto essendo rientrata comunque del tutto oggi e niente vorrei fare i complimenti a tutte le mie compagnie squadra sono super orgogliosa mi dispiace per il risultato per l'ultima battuta però si diciamo che sicuramente forse un pelino di rammarico ma sicuramente montecchio diciamo un montecchio ritrovato rispetto anche alle ultime prestazioni che mi hanno stato un po' più in colore sì è vero siamo ritrovati finalmente speriamo di continuare così che sia la prima di tante sicuramente anche il tuo rientro quest'oggi ci dà un po di morale di fiducia in più per il continuo e anche bortoli laura sta riprendendo gli allenamenti quindi speriamo di avere di nuovo tutto l'organico a disposizione sì speriamo di rientrare tutte essere tutte in forma comunque qualche acciacco c'è sempre però sì sì stiamo stiamo tornando tutte bene ti ringraziamo e complimenti ancora grazie mille